Questa nuova piazza però spesso sporca e oggetto dell'incuria e dei disastri dei vandali purtroppo, cosa si può dire a queste persone? Ognuno di noi dovrebbe rispettare l'opera che è stata fatta perché questo fa bene a tutti tenere una bella cosa pulita, ordinata. Ci vorrebbe più sorveglianza, cioè qualche vigile che vigilasse un po' di più, un bagno pubblico perché spesso le persone si accantonano a una parte, noi portiamo i bambini quindi penso che non è una cosa bella. I cani che alla sera circolano, in mezzo a due stanno i bambini. Una questione di educazione civica. Ma sanno che qua non c'è sorveglianza e quindi si fa tutto quello che vogliono. Ma ci vorrebbero più controlli secondo me, sia di giorno che di notte, perché questo vandalismo, visto che non hanno l'educazione di farlo da soli, ci vorrebbero molti più controlli, non so, vigili, carabinieri, chiunque. Purtroppo al 90% delle famiglie non viene data ai ragazzi di oggi, perché viene dato troppo ma non quello che serve, cioè l'educazione. Sono dei maladeguati e poi è un ambiente che io me lo ricordo che a fondo c'è sempre stato, quindi penso che sarebbe dovere degli amministratori a mettere un po' di persone addette per poter salvaguardare la pulizia e l'atteggiamento di questa piazza, perché altrimenti se l'ambiente è questo che cosa possiamo fare. L'educazione viene attraverso una ricorrenza di cose che uno si sta attendo, per esempio i primi giorni hanno fatto vedere che hanno messo le guardie municipali, i falchi e poi è finito. Cioè i fondi è sempre fatto così, voi siete ragazzi e non vi ricordate, i fondi ce l'ha per tradizione queste cose qua. Ora se non prendono pervedimento, come prendono pervedimento? Ad altre cose, devono prendere anche per queste qua, perché purtroppo l'ambiente civile non c'è, non c'è un'educazione civica, questo è il discorso. Allora quando non c'è bisogna crearla. Sicuramente è una cosa sbagliata perché la piazza è di fondi e di fondani, quindi deve essere mantenuta pulita e non bisogna sporcarla. Anche dopo il concerto di Virginio era abbastanza sporca, quindi credo che sia una cosa parecchio sbagliata quella della sporciccia sulla piazza De Gasperi. Io direi che soprattutto la colpa è delle persone che non lo fanno per qualcosa, ma soprattutto per ignoranza.